Salve amici, anche noi avvocati italiani, un po' come fanno gli inglesi, i francesi e gli spagnoli, iniziamo a raccontare un po' la nostra vita, la nostra solitudine delle nostre botteghe, perché l'attività di un avvocato, soprattutto un avvocato matrimonialista, è un'attività particolarmente complessa. I nostri studi sono dei pronto soccorso più che dei studi legali, da noi entra la gente a pezzi, che sta perdendo tutto, e quindi ho avuto modo di raccogliere le storie più incredibili, più dolorose, ma anche più comiche, ironiche, perché c'è di tutto nel mondo del diritto di famiglia. Ovviamente la maggior parte delle volte si data di questioni molto delicate, dolorose, di figli contesi, di violenze intrafamiliari, di sopprusi. Io ho iniziato con i perplessi sposi, è il primo saggio che scrissi di getto con la prefazione di Paolo Guzzanti. Un grande successo oggi, questo libro lo potete trovare soltanto in formato ebook su Amazon. Poi, passo in rassegna, vi dichiaro divorziati, storie di cuori spezzati. Racconto un po' le vicende classiche delle separazioni e dei divorzi, perché si arriva in tribunale, perché un amore finisce. Anche qui c'è stata la prefazione di un grande, Morizio De Giovanni, mio grande amico, fraterno, e racconto quindi storie anche di infedeltà, gioco d'azzardo, bambini trattati come un bottino di guerra. Poi ci eravamo tanto armati, di Arco Steditore come gli altri, che è un libro che parla in particolar modo delle violenze intrafamiliari e di come un grande amore possa trasformarsi in un grande conflitto, in una grande guerra. Sia vi dichiaro divorziati, che c'eravamo tanto armati, li trovate su Amazon, in poche ore vi arriva direttamente a casa. E non solo c'è il formato ebook, ma anche l'audiolibro, quindi potete ascoltare dalle voci di grandi doppiatori i racconti che faccio in chiave romanzata in questi libri. Per poi finire con un altro saggio che ha avuto un successo enorme, stiamo parlando di migliaia di vendite di libri, La Guerra dei Rossi, sempre di Arco Steditore, prefazione ancora una volta di Morizio De Giovanni, parlo del Covid, ciò che è avvenuto durante il lockdown, l'aumento delle violenze in famiglia, la solitudine, il silenzio dei protagonisti, i soggetti fragili delle relazioni familiari. Anche questo è stato trasformato in un ebook e in un audiolibro, sempre con le voci dei doppiatori italiani più famosi. Ecco, l'estate può passare in maniera più veloce, anche in maniera più proficua, leggendo, leggendo libri. Quindi potete avere il libro in formato cartaceo, in formato ebook o sentirvelo tranquillamente con le vostre cuffie in formato audiolibro, sempre su Amazon, in poche ore potete scaricare il libro, potete ordinarlo, o potete ordinare l'audiolibro su audible.com. Per il resto delle mie pubblicazioni potete ovviamente accedere ai vari siti, e con questo aspetterò poi ovviamente i vostri eventuali commenti su questi libri, che per me rappresentano una testimonianza della vita e della solitudine di un avvocato. A presto.